mettete la panchetta a 30 gradi prendete i manubri vi coricate sulla panchetta portando i manubri alle spalle e da questa posizione sollevate in questo modo una cosa che in molti mi chiedono sempre è la posizione dei manubri se va posizione neutra posizione pronata posizione supinata la posizione migliore è quella che prevede una partenza in posizione neutra e nella risalita prevede un'intrarotazione in questo modo scendo in maniera neutra e quando salgo intraruoto scendo in posizione neutra e quando salgo intraruoto questo perché questa intrarotazione permette la migliore funzione del pettorale il pettorale ricordiamoci sempre che è un forte intrarotatore della spalla quindi se io parto da questa posizione e intraruoto quando salgo il pettorale verrà coinvolto in modo migliore però anche la versione posizione di partenza pronato già intraruotata in questo modo può andar bene e la versione più utilizzata e anche agli inizi può essere accettata evitate però la posizione che più spesso si vedono nella palestra cioè quella che prevede una partenza a mano pronata e quando salgo e quando salgo un'extrarotazione in questo modo è quello che si vedeva spesso nelle palestre ma questa posizione è innaturale e non permette al pettorale di svolgere la sua funzione anatomica di intrarotatore perché quando noi saliamo in questa posizione extraruotiamo facciamo una cosa opposta a quello che dovrebbe fare il pettorale quindi evitate questa grazie a tutti